I percorsi per ritrovare la pienezza della vita, Petrella Tifernina gioia piena, festival dei giovani. Petrella Tifernina per quattro giorni, domani la giornata conclusiva si è trasformata in un luogo d'incontro per giovani provenienti da tutta Italia e anche dalla Svizzera. Giornate scandite da momenti di preghiera, meditazioni, confronto, workshop, fotografia, teatro, danza, giornalismo, arte, canto, musica. Tutto questo è gioia piena, il festival dei giovani che sulla scia di quello di Međugorje conduce per mano i partecipanti a rafforzare la propria spiritualità e a dare nuovo slancio al desiderio di realizzazione della propria vita e di credere in se stessi. Giovani con alle spalle percorsi di vita difficili che grazie all'incontro con la fede sono riusciti a ritrovare la gioia piena della vita. I ragazzi, non tanti, vedo, non hanno modo di conoscersi, di dire chi sono, non lo so, chi sono, non mi sono mai fatto questa domanda e quindi vorrei sapere chi sono, ma noi proviamo a dire ok, chi sono io, ti regalo quello che sono io e tu regalami chi sei tu, no? Questo è bellissimo, questo scambio di cuori. A promuovere il festival che è inserito nel cammino sinodale Diocesano, la comunità Nure Orizonti, l'Arcidiocesi di Campobasso Guiano e il Comune, tra le testimonianze anche quella dell'attrice Sara Mestri. Noi veniamo al mondo per amare ed essere amati e avere questa certezza, questa concretezza, sicurezza nella vita, dell'amore puro, quello vero, quello infinito, di un miglior amico che muore per te, sicuramente una rivoluzione nella vita di ognuno e io ho avuto questo fantastico dono della fede, della conversione e quindi sono qua per testimoniarlo. Oggi messa presieduta dall'Arcivescovo Bregantini, questa sera spettacolo The Best Way con la partecipazione di Lorenzo Belluscio.